Bruce Springsteen e la E-Street Band stanno per tornare. Nel 2023 ci sarà un tour mondiale che prevede 20 date in Europa, tra cui 3 in Italia, il 18 maggio a Ferrara, il 21 maggio a Roma e il 25 luglio a Monza. Springsteen, intervenendo alla E-Street Radio, il suo canale ufficiale, ha spiegato ho una voglia pazzesca di suonare dal vivo e di stare di fronte ai fan, sentire di nuovo quella vita e vedere di nuovo i loro volti. Sarà un tour della vecchia scuola, staremo in giro per un bel po' di tempo per dare a tutti quelli che ne hanno voglia e l'occasione di vederci o rivederci. Springsteen ha parlato anche della scaletta, ci sarà materiale recente in maniera significativa e ovviamente la musica che i fan amano ascoltare. Sarà uno show che cercherà di essere contemporaneo ma anche che ti faccia sentire a casa.